ciao oggi vi farò vedere un po più nel dettaglio dove io sto vivendo qui a tenerife e vi voglio far vedere la mia casa se mi vuoi seguire una delle cose importanti di questa isola è le vedute che sono meravigliose guardate che viale per andare a casa mia a pochi passi possiamo arrivare al mare e alla mi casa tra qualche attimo ci saremo arrivati in questo momento siamo di fronte casa mia vi faccio vedere il corridoio per arrivare a casa con tutte queste bellissime palme adesso dobbiamo decidere se andare verso casa o vogliamo andare a vedere la playa e la playa è da questa parte secondo me andiamo a vedere un po di mare ed ecco siamo arrivati qui alla playa e il mare sta lì possiamo continuare ed eccoci qui al passeo dove ci sono tantissimi bar per sedersi e passeggiare i riguori locali e qui sulla nostra sinistra abbiamo il promontorio dell'isola dell'oscriziano e sono arrivato qui al mare dove si respira un'aria buonissima e da quando sto qui sull'isola mi sono rilassato tantissimo perché adesso stiamo andando alla mia casa per farvi vedere dove io adesso sto vivendo ok ed eccoci sono arrivati qui a casa e questa è la mi porta della mi casa e vi faccio vedere che cosa è fatto il buio grazie a tutti